ciao a tutti ragazzi oggi doppia recensione con premessa allora avete visto di cosa parleremo già dal titolo settimana scorsa vado al mio negozio di fiducia e ricordo che la volta precedente avevo sentito svapare ad un signore un qualcosa che aveva un odore, lasciava nell'aria un odore di cacao micidiale a me il cioccolato onestamente non piace né mangiato né nei dolci né tanto meno svapato un paio di prove le ho fatte nei mesi con alcuni aromi al cioccolato però sono sempre rimasto un po' così ma quell'odore che c'era nel negozio era veramente wow lì per lì non mi sono osato a chiedere direttamente allo svapatore cosa fosse l'ho chiesto l'altro giorno appunto ad un ragazzo che lavora nel negozio e lui secco e preciso mi dice che stavano svapando questo Devil Superflower eccolo a fuoco un liquido pronto in versione 30 ml questo è nicotina 1,5 l'avrei preso 3 ma era esaurito quindi ci accontentiamo dell'1,5 io tutto contento non lo provo nemmeno sulla fiducia vengo via la sera rigenero il Gun LP drippo come farò adesso lo apriamo lo nasiamo il cacao c'è tutto si sente che non è cioccolata ma è cacao il liquido sembra un 60-40 a vederlo così bagniamo leggermente ma non troppo il cotone dopo capiremo perché Gun LP su Bullbox resistenza da Flavor sono 6 spire separate di acciaio 26 gauge non è assolutamente una resistenza da Cloud in quanto il Gun LP altrimenti si scalda troppo e non va bene non rende bene ce lo svapiamo e quella sera stessa dico buonino ma mi ricorda qualcosa lì per lì siccome ho un centinaio di liquidi pronti preparati nei mesi con aromi magari qualcuno ancora lo devo lo devo assaggiare altri li ho svapati fino alla fine altri li ho svapati un pochettino e lasciati lì perché magari non erano per me da tutto il giorno non mi soddisfacevano semplicemente ho cambiato gusti e quindi li ho lasciati in disparte sì mi ricorda qualcosa e non mi sembra l'odore che avevo sentito in negozio ho detto boh che strano continuo a svapare riempio praticamente la cucina di vapore provo ad uscire e rientrare e sì l'odore era quello allora me ne vado di là in magazzino dove tengo tutti i liquidi guardo un po' e ritrovo questo chocobomb aroma della sempre super flower allora la descrizione cosa dice la descrizione di devil che abbiamo visto prima dice cioccolato diabolico mentre quella del chocobomb ci dice che è un mix di cioccolata andiamo a seccare il cotone grippiamo un po' di questo che avevo preparato il 26 di dicembre questo è fatto su base 80-20 nickmaster nicotina 3 è praticamente lo stesso è praticamente lo stesso aroma o perlomeno io ci percepisco la stessa cosa quindi quella sera stessa dopo aver sbappato il devil pronto ho sbappato il chocobomb fatto con aroma più base e dopo ho risbappato il super una volta seccato il cotone allora il super è leggermente il super scusate il devil pronto è leggermente più più saporito un pochino più forte però questo si nota alla prima le prime due svapate dopo dopo l'aroma si si assomigliano molto gli aromi diventano diventano quasi uguali sicuramente c'è un qualcosina di diverso ma è veramente veramente poco marcata la differenza tra il liquido pronto ed e l'aroma c'è da dire che il devil fa parte della serie angel e devil dove sono due liquidi separati uno appunto il devil al cioccolato e l'angel dovrebbe essere un mix di cereali con latte vado a memoria sono due aromi due liquidi che possono essere svapati o singolarmente oppure miscelati per ottenere un mix nuovo io l'angel non l'ho preso quindi non non posso esprimermi a riguardo per quanto riguarda appunto il chocobomb in aroma o il devil in liquido pronto ripeto che per me sono molto molto simili allora da non amante del cioccolato ogni tanto qualche svapatina me la faccio ma non è per me da tutto il giorno nessuno dei due infatti il flacone da 30 ml ne ho svapato una metà quindi circa 15 nelle varie prove però continuo a preferire altro io in questo periodo sono più per i fruttati che per i cremosi ogni tanto mi piace staccare con un qualcosa di un pochino più dolce c'è da dire che entrambi non sono propriamente dolci non sono quei liquidi americani stracarichi di di acetile di altre porcherie che fanno sentire veramente tanto il dolce in bocca sono non sono blandi è un cacao abbastanza secco questo mi mi aveva intrigato sentendo l'odore in negozio proprio il fatto che fosse che fosse secco che fosse più cacao e non propriamente cioccolato io altro da aggiungere non ho se il video vi è piaciuto lasciate il solito mi piace iscrivetevi al canale qualunque domanda fatemela tranquillamente nei commenti e ci vediamo al prossimo video ciao a tutti 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 ciao a tutti